Il forno statico funziona per il raggiamento. Cottura statica infatti significa che il calore si propaga grazie all'accensione delle resistenze del forno, che possono essere situate in due diversi punti, in alto o in basso, o in entrambi i punti. Il calore quindi si propaga senza che vi sia alcun movimento dell'aria. Ciò significa che il forno raggiunge una temperatura calda in modo molto graduale e questo permette di cuocere i cibi in modo delicato, anche se gli è il rischio che la cottura sia poco uniforme, in quanto l'irraggiamento del calore avviene solo o lateralmente o verticalmente. Il calore viene contenuto dallo sportello, che a seconda del tipo di materiale con cui è realizzato, riesce a mantenere un certo grado di calore e di conseguenza favorisce un certo tipo di cottura. L'ideale è usare sportelli in vetro temperato per i propri forni, poiché mantengono il calore mantenendo costante la temperatura, con risultati finali sicuri, prevedibili e di conseguenza davvero eccezionali. Con il forno statico si è quindi una cottura più lenta, per permettere al calore di cuocere bene i cibi all'interno, con il risultato di sentirli asciutti e ben cotti. Il forno statico è ideale per la cottura di tutti quei prodotti da forno che necessitano una buona lievitazione. E tu, utilizzi spesso il forno statico? Il forno statico